Il derby del sud si ripeterà alla finalità di Firenze, una gara che andrà in scena in prime time, tra due formazioni molto diverse e costruite con ambizioni totalmente opposte. I bianco-verdi non ci arrivano, come sappiamo, nelle migliori condizioni possibili, ma Avellino ha sempre dovuto giocare in emergenza in questa stagione. Lo farà anche a Firenze nella gara di questa sera. In campionato gli avellinesi spugnarono il 5 gennaio il campo del Palapentasuglia dando una lezione non tanto agli uomini di Vitucci quanto al presidente Marino che proprio prima della contesa aveva lanciato il suo personalissimo Jacques Hughes contro i bianco-verdi per via del caso Young. La giurisprudenza ha poi dato ragione ad Avellino ed a Marino sono rimaste soltanto le parole. Questo episodio ha però inasprito gli animi, già i rapporti tra le tifoserie non sono idilieci, Marino ha finito per renderli pessimi. Sugli spalti ci saranno scintille che speriamo restino nella correttezza. Sul campo sarà una sfida intrigante con coach Frank Vitucci che è in cerca di rivincite e può cavalcare l'onda dell'entusiasmo. L'Epicasa ha inanellato in campionato 5 vittorie consecutive, l'ultimo stop proprio contro la Scandone. La Sidicas ci tiene all'appuntamento, la società ha chiesto di concentrarsi sulla final hit. Vincere sarà difficile, ma un po' di fortuna in più questo gruppo la meriterebbe. Grazie a tutti.